è spento il sole, è spento il seduto, ancora una lampadina fai vedere il nuovo taglio con me, dietro dietro c'è il mio cano l'ultimo dei cani, dove siamo stasera? sono alta, ho i tacchi insomma siamo a sorgente dei carano sono a mangiare una pizzetta stasera, perché mi ripieni tutta di qua? perché sennò c'è la mano mia sulla faccia tua, guarda cazzo c'è la mano sulla coscienza vabbè andiamo, non solo pizza però, scusate mi devo fare il selfie è così qua, mazza che carino d'è fuori oh Camicia mi porta sempre in questi agriturismi, tutti immersi nel verde che a me mi fanno impazzire molto carino, che è la piscina quella? sì, è una piscina per dirmi il massimo è una fontanella è una fontanella, vabbè dai è una pespa sportiva io mi sto un piccacqua che, cioè, puoi i tacchi, vabbè eeeh, dove entra? in là guarda che carino questo, Camille oh a me ne piazza, vai a questo momento, una tour andiamo, va guarda c'è sta pure il laghetto di pesca sportivo ha detto lui, io non lo sapevo io ce l'ho fame mamma mia qua c'è sta pure un mini parchettino vabbè, andiamo a mangiare va stiamo entrando adesso c'è un fuori di azebo, ecco e poi c'è dentro mi ho prenotato per due allora, ragazzi, stanno un sacco di pizze e io ve l'ho scelto la cazzuzione questa guarda che figa, guardate che figa te che amiche ti pigli? io ho capito, ma io ho la capo mozzonato del buco hai capito? e poi, vabbè, c'è stato tutto qua comunque pizze rosse, pizze bianche, secondi, di pesce, di carne c'è sta un po' tutto quindi se volete venire seguiamo un po' tanti i pastini che vi faremo vedere poi ciao ciao solito un po' a mancarvi l'erlo un po' a mancarvi l'erlo abbiamo preso cecchieriello velletri superiori da casa, dicono dicono da casa speriamo bene un'bella boccia di vino hai detto qualcosa? dai! vai però, ci hanno portato i polpettini di prosciutto apri un po' a una toc toc io ho un voltino una volta che è aperta non è niente, lo devo capire dentro com'è? buona, eh? e come stessi? che so? un voltino di melanzano un po' dentro il prosciutto crudo crudo? non lo dico, eh buone non lo so, ma so buone ciao, lì abbiamo ordinato pure i peperoncini mestitari fritti fritti c'è dentro sempre il peperoncino mo' se pizzica, capi? pizzica forte? messicano mamma mia che buono no, vabbè un pochetto pizzica, non tanto però buono, eh? è buonissimo noo noo guarda dentro c'è la ricotta c'è la ricotta dentro buoni raga, tutto buono tutto buono tutto buono fino adesso bene, bene no raga, lo sapete che pizza seppiata questa? seppiata azzolzona azzolzona seppiata, no? perché una oggi è nata leggera che si è mangiata oggi? che si è mangiata? la pasta che i noci con tanto un po' di olietto tutte cose, pancette azzolzona diciamo che seppiata azzolzona seppiata scusa no raga cioè seppiata azzolzona un vero in due che conto è buono che si è mangiata azzolzona la pizza sarà buonissima se ce la portano eh, cammini? check 87858,41,23 bombola mi sentite? sta a fare i 10.000 prove prima che arriva la pizza vabbè, stiamo aspettando un pochettino dobbiamo dirlo stiamo aspettando un pochettino per la pizza speriamo che valga la pena ecco qua siamo ordinati al 2 giugno siamo al 25 settembre davvero però una mezz'oretta è buona, è passata eh sì mi è falso la pena perchè la faccia soddisfatta di camicia voi manco voi immaginate gli è arrivata la messa come l'hai presa? com'è tu? come l'hai presa? questa è una diavola con la mozzarella del buco buca? buca, no sarei stretto e io ho preso il farsozzona no, è, quindi guaccini e pancetta niente, eh, suzzuzzo ah, guaccini e pancetta scusca buona, suzzu buona, suzzu buona perito buon appetito ciao, 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 ciao allora, non ci vediamo però ci vediamo amici ciao volevamo dirvi che siamo stati benissimo benissimo come si chiama il posto? posto dai c'è camicia che praticamente sta in vinello in vinato si chiama la sorgente di carano la sorgente di carano e zona? campo verde campo verde? latina? si, 10 minuti di aprile 10 minuti di aprile vabbè, da latina, aprilia, casale, ceccano, carano è tutto anche se non ci vediamo, vi salutiamo ciaoone ciaoone, bella rega ciao rega, la pizza era buona finca, guarda, così ci vediamo ci vediamo amici ciao, viva la batteria insomma siamo presi il vino ho pagato 6 euro ciccariello 2 eletri buonissimo altissimo ahahah, quella è l'acqua acqua quanti pasto, tutto quanto ho speso 30 euro 30 euro rega, buono mamma mia toppino mi ho annunciato pure un pezzo di pizza mi ho annunciato pure un pezzo di pizza ma faccio una merindina a casa dopo mi ho tutta amicia, 30 euro ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.